La musica è un linguaggio che parla al cuore e lo riempie di emozioni. Così il concerto di Natale Capodanno per la vita, organizzato da Admo Lombardia e dall'associazione Onlus Federica Albergoni, ha emozionato il numeroso pubblico del teatro Donizetti di Bergamo. I canti natalizi della tradizione popolare eseguiti dal soprano Ena Maria Aldecoa delle Filippine e da Iustina Kim Gandolfi, soprano della Corea, hanno dato carattere internazionale alle magiche melodie. Vuole essere infatto sostanzialmente un momento di incontro e un momento di ideale abbraccio tra tradizioni natalizie musicali che provengono appunto da diverse nazioni. Abbiamo i nostri che per eccellenza appartengono alla letteratura musicale natalizia inglese e americana e abbiamo poi anche queste prime esecuzioni, ci tengo a sottolinearlo, mi fa piacere sottolinearlo, queste prime esecuzioni in Europa di musica filippina. Un concerto, quello per la vita, che ha rinnovato il significato della solidarietà. Il tutto è vissuto, è stato pensato come un momento anche di incontro per aiutare, per supportare la causa di un'associazione che amo particolarmente, che è la Admo Lombardia, che è l'associazione appunto donatori di midollo osseo. È un'associazione che ho conosciuto recentissimamente, ho apprezzato molto il modo, le persone che ho conosciuto e la problematica che loro stanno affrottando di giorno in giorno, di anno in anno. Infatti voglio ricordare che quest'anno si celebra il ventennio della nascita di Admo. Quindi ecco per Admo ho voluto creare un evento speciale nel cuore della nostra Bergamo.